Meno male che la lezione è finita. Ho così fame. Cosa? Pensavo di avere un panino qui. È lui di che cosa si lamenta? Scommetto che non ha mai visto una di queste. Tieni, Kevin. Grazie. Oh! Au! Grazie, ma no. Che strano. Aspetta, ce l'ho. Hai ancora fame? Che cosa ha di speciale quella mela? Devo splendere. Ehi, Betty. Andiamo al cinema? Prendiamo la tua auto nuova? Ciao, Mickey. Che bella giacca di jeans. Grazie. Devo andare a lezione. Cosa? Io non valgo niente? La mia vernice è una tela vuota. Verrà benissimo. Vediamo se a Thomas piacerà ancora la sua giacca. Devo fare in fretta. A nessuno piace avere delle macchie addosso. Sembra macchiata di senape. Sì? Hai qualcosa sulla tua giacca? Oh, no! Ma sono sempre così attenta. Tranquilla, nessuno lo vedrà. Che peccato. Ma forse posso aggiustarla. Hai una macchia sui vestiti? Lascia che ti ispiri a creare qualcosa di unico. Metti un guanto e poi della vernice. Poi premi la mano contro la giacca. Guarda che bei colori. E qui ci vuole anche qualche bello schizzo. E fatto! Sì, ho appena ribaltato la situazione. Wow, lo devo postare questo. La tua giacca sarà virale. Che succede qui? Guarda che bella la sua giacca. Altri regali, signorina. Ma a cosa le servono tutti questi regali? Ne ho portati così tanti che mi fa male la schiena. Adesso voglio aprire questo. Chissà cosa sarà. Un iPhone d'oro. Ma io volevo quello con i diamanti. Ah, che noia. E no. No. Come morbido mi piace. Un delizioso mino di pan di zenzero. Tutto per me. È così carino e gustoso. Non vedo l'ora di mangiarlo. Allora, ti piace il latte, signor pan di zenzero? Devo scaldarmi? Fa così freddo. Ah, che bella sensazione. Il mio mino di pan di zenzero. Tu, tu, l'hai rotto. No. Oh, stai calma adesso. È stato un incidente. Guardalo, non ha più la testa. L'aggiusterò io. Rimani un attimo qui, ok? Prendi un guanto e separa il dito in questo modo. Quindi riempi le estremità con dei batuffoli di cotone. Assicurati di spingerli bene nel guanto. Cuci il guanto per sigillarlo. Quasi. Aggiungi dei dettagli per ottenere un omino di pan di zenzero. Non resta che regalargli un bel sorriso. Perfetto, sembra felice. Ehi, ragazzina. Mi dispiace per il tuo omino. Ma prendi questo. Che ne pensi? È per te. Davvero, per me. Wow, grazie. Grazie mille, l'adoro. Oh, ecco. Puoi avere questo. Wow, per me. Ottimo scambio. Quanto buono l'omino di pan di zenzero. Oh, ehi, ragazza. Ehi, tu. Bazzetto. Oh, no. Cosa c'è? Ti rendi conto che è Natale? Dove sono le tue decorazioni? Non vedo nemmeno un cappello da Babbo Natale. Ecco cosa mancava. Ci penso io. Che mi dici? Wow, adesso sì che va bene. Il tuo albero, però, è tristissimo. Ma dai, sistemo in un attimo. Non mi convince. Stai scherzando? Va bene. Manca ancora qualcosa. Ok, quello sì che è un bell'albero, finalmente. I soldi risolvono tutto. Dove sono le vignette? Ho le decorazioni? Fantastico. Decoriamo l'albero. Ehm, certo che ha visto giorni migliori. Tranquilla, so io che fare. Aggiungerò un nastro e... Au! Eh, no. Ci sta bene. Ma come faremo a pulire? Ta-da! Eh, sì, beh, non credo che funzionerà, sai? Sono carina come albero, ma fa niente. Prendi questa. Aspetta un attimo. Ho avuto una grande idea. Dammi un secondo. Prendi una bottiglia di plastica vuota. Una verde è perfetta. Taglia il fondo. Usa le forbici per tagliarla fino al collo. Fallo tutto intorno alla bottiglia. Poi apri i tagli in questo modo. Usa una candela per tagliare la plastica e poi sciogli i bordi. Alla fine sarà simile a questa. Mettila su un palo di legno o un bastone. Aggiungi altre bottiglie. E voilà, avrai un albero di Natale. Guarda un po'. Wow, abbiamo un albero. È fantastico, l'adoro. E puoi anche toccarlo. Ottimo lavoro. Aspetta, questo cos'è? Non sarà mica difficile. Mocio? C'è. Spray detergente? C'è. Puliamo. Questa pianta ha bisogno di una spolverata rilassante. C'è qualcosa qui dentro. Una barretta di cioccolato? Che giornata! Come sono fortunata. Oh, forse è ancora buono. Non posso mangiarlo. Quante macchie! Ecco, bello pulito. Ma dai! Chi lascia la bianchere intima in giro? Che schifo! Ma ho gli attrezzi appositi. La sicurezza prima di tutto. Come puzzano! Un altro lavoro ben fatto. Sento ancora la puzza. Non era così male. Mi piace questo lavoro. Che cosa? No! Non esiste! Mi serve questo. Non sul pavimento pulito. Ma quanto sudi! Fatto. Bene. Ci è mancato poco. Per me. Ne è valsa la pena. Oh no! Che grande errore! Schifo, schifo, schifo! Autolavaggio! Venite a lavare la vostra auto. Forza! Servizio completo. Oh, grande! Beh, sarà meglio cominciare. Eccomi! Cosa sta facendo? Com'è sporca! E' anche un buon allenamento! E' così pulita che posso vedere il mio riflesso. ci mette così tanto. Ma almeno è carino. Wow! Oh, si sarà fatta male. Dove sono? Cos'è successo? Che dolore! Stai bene? Andiamo in ospedale. Il braccio mi fa così male. Ma almeno ho guadagnato. La fattura del medico. Devo pagare? Oh! Non è giusto! Paghi, signorina. Non voglio. Le spezzerò l'altro braccio. Prenda. Non voglio. 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 Grazie a tutti.